Buongiorno, sono Francesco Migliano, faccio parte dell'equip del Dottor Borghetti. Il mio intervento questa mattina verterà sugli aspetti storici che hanno contribuito a porre le basi alla cardiochirurgia mininvasiva e al processo che ha portato all'evoluzione del giorno d'oggi, nel quale ormai la cardiochirurgia mininvasiva rappresenta per molte tecniche chirurgiche, il gold standard di approccio alla patologia valvolare.